Nella primavera del 2024, 56 comuni molisani torneranno alle urne per eleggere i nuovi sindaci. Riflettori accesi su Campobasso e Termoli, dove si è in attesa di conoscere i successori di Roberto Gravina, eletto in consiglio regionale, e Francesco Roberti, eletto presidente della regione molise. Tra i paesi più popolosi che torneranno al voto ci sono anche Campomarino, Santa Croce di Magliano, San Martino in Pensilis, Riccia, Trivento, Petacciato, Ripa Limosani, Frosolone e Pozzilli. I 56 comuni al voto nel 2024 andranno tutti alle urne per scadenza di mandato, con solo due eccezioni, Petacciato e Pozzilli, che torneranno ad eleggere i rispettivi primi cittadini perché sindaci eletti Roberto Di Pardo per Petacciato e Stefania Passarelli per Pozzilli sono diventati consiglieri regionali.